Dopo il debutto sette giorni prima a Prato per Massimo Gadda è tempo di ripercorrere la strada dei Morgani per risalire la china. Ospite la bagnolese, alta squadra desiderosa di tirarsi fuori dalla zona rossa di classifica. Abita la gara Giuseppe Sassano della sezione di Padova, coadiuvato a Federico Mezzalira della sezione di Varese e Lorenzo Rigano della sezione di Chiari. I Folli crea la sua prima palagol con l'esterno Gersos, Conradi risponde con una parata alla garella. I padroni di casa affondano nuovamente nell'area ospite andando anche in gol con Ballardini ma l'arbitro annulla per posizione di offside. I pressing degli uomini di Gadda prosegue, in questo caso arriva alla conclusione Borelli con il tiro che si perde a lato. Sull'altro versante la bagnolese arriva al tiro con Madbico, respinta di De Gori ed infine con Buffanni, nulla da fare per il rosso-blu ospiti che trova nuovamente la risposta di De Gori. Nella ripresa di Folli cambia marcia, la squadra di Gadda acquisisce sempre più forza, la discesa di Ballardini manda a tiro verde e Conradi rispinge. Lo stesso Ballardini alimenta la nuova offensiva bianco-rossa, pallone che carambola sul piede di Rapai che si divora un gol fatto da buona posizione. Successivamente la volta di Borelli che con un tiro a giro crea l'illusione del gol. La replica della bagnolese affidata a Cortesi, pallone che termina sull'esterno della rete. A questo punto entri in vigore il cosiddetto dentro o fuori, i bianco-rossi centrano in legno superiore della porta difesa da Conradi, mentre dall'altra parte concedendo spazi la bagnolese rendersi pericolosa sfiorando la marcatura con un tiro dalla distanza terminato alla destra di De Gori. Ma il dentro e fuori provoca anche i due gol finali del Folli a sbloccare la gara che sa veramente liberazione e Ballardini al minuto 89. Ad un passo dal purgatorio verrebbe da dire e nell'extra time nella classica zè di contropiede è Borrelli tra i migliori in campo a realizzare i gol del 2-0. Partita chiusa, neppure per sogno, c'è ancora il tempo per vedere l'incrocio dei pali colpito da Rapai, per mettere i titoli di coda e regalare la prima vittoria a Gadda a ritorno sulla panchina dei Galletti.